Si vociferava senza conferme che potesse anche sostenere Marco Donati? A me l'ha escluso categoricamente l'ultima volta che ci siamo visti. Lui con Marco Donati ha detto ma stai scherzando? Perché gli ho detto anch'io, ma mi hanno detto ma stai scherzando? Quindi questo lo ha escluso lui categoricamente, non io. Lui credo che a questo punto abbia un po' il dubbio se fare qualcosa o non fare nulla. Io mi auguro che faccia e lo stimolerò anche in questo senso. Resta ancora dunque tutto da scrivere il futuro politico del vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, dopo la decisione di lasciare la lista Oraghinelli. Nessuno strappo però si sarebbe consumato con il primo cittadino di Arezzo che smentisce le voci che si erano fatte sempre più insistenti su una presunta vicinanza del vice sindaco a Marco Donati, ex parlamentare del Partito Democratico, che ha già annunciato il suo intento di concorrere alla carica di sindaco con una lista civica dunque scevra da ogni schieramento politico. Non è una cosa nuova, lui già nel gennaio aveva dichiarato alla Nazione che la lista civica che lui stava creando non era la casa del sindaco, non era riferibile ad Alessandro Ghinelli, quindi lui aveva già in mente una sua lista civica. Ultimamente sembrava essere ritornato sulle sue opposizioni, per cui si era aperto un colloquio tra me e lui per cercare di ricondurlo dentro la lista Oraghinelli 2025 e lui ha deciso invece di non seguire questa strada. Mi dispiace ovviamente, è stato il mio braccio adesso per cinque anni, quindi lui ha un'idea diversa rispetto alla lista civica che svilupperà compiutamente e correttamente il mio supporto, così è stata la sua dichiarazione, perlomeno quella del gennaio, e che sia ripetuta anche successivamente. Mi auguro che lo faccia, perché comunque il contributo di Gianfrancesco è un contributo assolutamente positivo nell'ambito della gestione del voto di centrodestra. Grazie. Grazie.